ora dai ascolto al tuo respiro per qualche attimo in ogni respiro che tu fai mentre inspiri pronuncia dentro di te entra aria nuova e mentre mandi fuori l'aria dia te stesso esce aria pulita e ancora entra aria leggera e esce aria pulita entra aria nuova e esce aria pulita ottimo mentre il tuo respiro continua in modo naturale senti i tuoi piedi che si rilassano le tue gambe sono completamente rilassate e mentre ascolti la mia voce ti guido a concentrarti nel punto più inferiore del tuo ombelico